Non capitalizza Kozevar, ancora Klavzar in palleggio, bella partenza e due punti di Urbato, bisognerà scegliere i 12 che voleranno in Polonia la prossima settimana e dunque si attendono ovviamente delle risposte da alcuni giocatori Pozzato, Klavzar, la trici sul cronometro, 41-32 per gli azzurri Klavzar, pericolo numero uno per la difesa, palleggio, resto e tiro, io io, Gran Canessa Urban Klavzar per chiudere questo primo tempo davvero avvincente qui al Palaciantomo in questa seconda gara del trofeo internazionale Under 20 di Domege Urban Klavzar, palleggio, resto e tiro Grazie a tutti, grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti